Il questore di Caltanissetta, Manuele Ricifari, ha sospeso per sette giorni la licenza ad un bar di Gela. Ritrovo abituale di pregiudicati, come prevede l'articolo 100 del testo unico delle leggi pubblica sicurezza. Sono aumentati da tempo i controlli della Polizia di Stato sul territorio gelese. Già a gennaio un provvedimento simile era stato emesso nei confronti di un altro esercizio commerciale e che era luogo di incontri di pregiudicati. Il provvedimento è arrivato dopo ripetuti interventi da parte delle pattuglie della Polizia di Stato che in giorni diversi hanno identificato all'interno del bar che si trova al centro storico di Gela persone pregiudicate. Proprio il centro, insieme ai luoghi della Movida, sono tra quelli maggiormente controllati e così le volanti del commissariato insieme alle pattuglie delle parti prevenzione crimine hanno svolto servizi straordinari di controllo del territorio proprio per contrastare l'illegalità. Grazie a tutti.